Ed eccoci qua su Brawl Stars, signori abbiamo da fare un po' di roba con Tara, l'assalatrice Però Tara, regà, non l'abbiamo praticamente mai potenziata, quindi con una matata bene ritrovati al vostro 189 Andiamo a potenziare un minimo Tara, ma proprio un minimo, regà, ma proprio per non fare una roba brutta C'è proprio, c'è proprio, 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 abbiamo due missioni da fare, sconfiggi 24 nemici con Tara E dobbiamo causare 1000 punti danno in ricercati, calcolate che ho rerollato una missione, perché era difficile Sì, sono stato io ragazzi, adesso tornerà perché sono un pochino scemo, vi dico la verità Speriamo che torni, anche se credo che non tornerà mai più, molto molto bene Ok, non sento l'audio, adesso sento l'audio Sono stato un po' fermo purtroppo Quindi Bravissimo, bell'ulti, mi è piaciuta molto Allora, regà, io però dovrei cominciare a far danno Eh, un po' tardi Non so neanche l'ulti Ah, ok Sono riuscito a fare una kill, sono molto contento Ci, ti per favore, fai un attimo far danni a loro e poi tu Eventualmente, eventualmente, dato che non faccio tanto danno quanto ne fanno loro Ok, quasi sono curati tutti Sì, effettivamente faccio veramente poco danno Questo C'è da dirlo, eh Cioè, quest'altro è il mio che fa una migliardata di danni al secondo Quello con lo spruzzino Che è fortissima, veramente Belle ulti che fa Facciamo così Non l'ho preso mai Ok Perché devo fare un botto di kill, regà Fatta? Meno male Ah, io che danno però Fatemi curare Ok, forse no Non l'ho fatto neanche di nuovo io No, è troppo, regà Fa troppi danni quell'altro Io non riesco Cioè, dovrei potenziarlo Nudevolmente Perché mi dà problemi Ah, no Perché mi dà problemi di connessione Quando è stato effettivamente quell'altro scemo Però è carino come player, eh Cioè, come brawler Scusatemi Molto Molto, molto simpatico Dico la verità Mi piace però Fa pochi danni Oh, almeno così è quello che penso io Magari me sbaglio Mamma mia, quanto siete ciotti Nella squadra avversaria Vedi, io adesso mi dovrei fare gli affari miei Ah, finalmente Quindi una kill l'abbiamo fatta Dovrei Stillarle Ok Non so se più sto vicino E più faccio danno Potrebbe essere Perché quello mi voleva per forza uccidere a me Che sono il più piccolino qua Ok È il primo Mi piace tanto, tanto Ok Eh, questo diventa un problema Vieni qua, va Non l'ho preso mai Perché Ah, però mi sa che comunque faccio danno Devo rivalutare la cosa Non sono riuscito a ucciderlo Purtroppo Purtroppo lui ha tirato una ulti Cattivissima Mi sembra di fare sempre gli stessi danni Però, eh Ok Quindi anche se mi avvicino Non cambia niente Da quello che Da quello che sto capendo Loro C'hanno due tank Eppure Bravissimo 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 davvero Raga Bullet Veramente fortissimo Bullet Veramente Tiro delle ulti Importanti Possiamo dirlo Lo possiamo dire O non lo possiamo dire Bravissimo Bravissimo Il primo Bella Stillata Per me Qualcuno che si viene A scatafrantare No, eh No Un certo momento hanno deciso Oh, 45-0 Bravi Quelli contro Bravi davvero Potremmo giocare ancora Ragazzi Cioè Mi Mi sembra che siamo Un'ottima squadra, va bene Grazie Bull, grazie davvero Forse che gli ho stilato una kill Potrebbe essere, potrebbe essere Però è carina, lei mi piace Sapete, potrebbe essere uno dei miei main Brock è imploso male Loro hanno diverse Diversi brawler Che vengono one shotati La cosa mi piace tranne Nita Che è quella un pochino un po' più Peccato che pure lui fa Un botto, un botto di danno Riuscirò a Sì, 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 sì Mamma mia Brock, pure se ho utilizzato Ecco Dicevo, anche Brock se ho utilizzato Con parsimonia, veramente fa Dei danni Allucinanti Aio Ah regà Mi squagliano, mi squagliano Proprio, ma mi squagliano per squagliare Eh, però ho 32 Mirko Veramente Ok Ah, perché faccio danno anche quando esplode Ah, ma adesso c'ha tutto un altro senso Adesso sì Adesso sì, ho capito E lui mi sta fottendo tutte quante le kill Alla grande ulti La grande ulti Facciamo così Vedi, è che poi esplode, no? Esatto Bravissimo Mirko Chissà da quanto tempo è che te lo stanno scrivendo in chat Che questo va utilizzato così No, comunque è molto forte Ok, l'ho fatto io? Boh, sì, perché c'è un ulti che esplode molto velocemente Questo mi piace Minchia, regà Queste veramente sono stragi, eh Ai, 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 ai Ok Posso dire di essere molto soddisfatto questa partita? Sì Perché l'abbiamo praticamente Ah, ma c'avevo due arcieri io come Porca miseria Dico di no perché Dato che abbiamo fatto la missione Bello Addirittura due Mi piace Lo sapete che mi sa? Che per assurdo Abbiamo finito Abbiamo No, ma non la voglio sbloccare subito Non era quello il mio intento Mi sa che abbiamo fatto tutte le missioni Ah, ci abbiamo cinque Mamma mia Ok, adesso è una disponibile Ma veramente io quando faccio quella modalità, regà Eh, porca miseria Neanche a fare così Che Mamma mia Ma neanche a fare così Eeeh Va bene Ma chi è che dà fastidio? Chi è che rompe le palle? Ditemi È questo qua Lo sapevo io Cioè praticamente si è rirotto di nuovo Molto molto bene Sono proprio molto contento Signori Probabilmente dovrò spendere altri 50 euro Per un altro nuovo di questo Perché io in realtà già ce l'avevo Però Siete che gli ho dato l'ultima strizzata prima E ha deciso Di Di rovinarsi Ancora di più Adesso voglio provare a vedere Ma tanto sicuramente Lo devo ricomprare, regà Perché in questo momento si funziona Fantastico Bellissimo Ma poi quando lo tocco Quando lo muovo Eeeh È un po' tutto così Ve voglio bene al prossimo appuntamento A fastidio con 89 Ciao ciao Ciao